e oggi vi porto nella mia pasticceria all'incubo dei nas per mostrarvi ecco come si fanno i cannoli sicindiani questi sono dei cannoli particolari che sono a metà diciamo fra quelli siciliani e quelli insomma dell'asia sicindiana vedete quello estende tutto con con i materi si può un bel lenzuolo che allora la particolarità di questi cannoli è che invece cioè differenze di quelli siciliani noi cioè quasi usano soltanto le scorzette d'arancide non quelle d'arancio mi raccomando si fanno i rotoli eccetera e soprattutto non si mette lo zucchero a velo ma si mette lo zucchero a pelo perché vedete uno deve essere le braccia le gambe più cose avete è meglio è e poi noi vedete si stende tutto perfetto il sudore che cade fantastica anche quello e dopo si fanno le striscioli i piedi nudi quelle importanti dopo anche e li uniamo con la frutta martoriata perché proprio c'è c'è così poi si fanno si fanno i cosi sempre con i piedi nudi attorno queste barre di uranio di impoverito ecco e per la frittura il segreto sta tutto nell'olio noi siamo l'olio del cambio castrol 402 mi raccomando quello è buono perché così proprio diciamo che la crosta ha una marcia in più ecco proprio per restare in in demo però non vi preoccupate perché se non avete l'olio ecco beh beh se non avete l'olio castro lo potete usare l'olio di girasola diciamo che anche quello va bene poi si ci vedete nero bello così come deve essere proprio il cannolo sicindiano belli una volta che si è cotto vi mettete su questo ripiano pulitissimo dove solo 6 milioni di blatte hanno hanno camminato ma la cosa bella è che la mia pasticceria diciamo lingua bodenas è famosa perché investe soprattutto negli utensili riciclati a noi ci piace riciclare la cosa infatti adesso li riempiamo ecco li mettiamo nella cassetta delle patate perché buttarla insomma la cassetta delle patate quelle belle coltico il terriccio insomma viene bello bel 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 pulito salutare avete capito e poi ecco adesso li facciamo adesso ci divertiamo vi ho detto no solo utensili riciclati io prendo questa questa gamba di un jeans e la uso come sac a poche cioè perché cioè questa è ricotta poi nostra ricotta proprio tutta quanta nostra e la lasciamo fermentare in ambiente esettico per 24 mesi deve essere bella stagionata ci togliamo la maglia perché così qualche pelle del petto può entrare dentro anche qualche pelo pubblico quelle ancora più più buone perché più più crunchy avete capito e poi noi con la stessa stagionatura diciamo oltre la ricotta di produzione nostra abbiamo anche il grana pantano che che facciamo chi lo vuole molto buono e il blattigiano vedete che bello questo cannolo sicindiano